Sarà un secondo per la vendita delle sofferenze. Siamo sul giornale 5 Stelle in tilt gli orfani di Casaleggio, una malattia porta via all'uomo che con Grillo ha creato una nuova idea politica, la democrazia dittatoriale, soldi, sito e strategia. Ora il movimento è senza guida. Poi andiamo ad un caso di mala giustizia, chi paga adesso 7 milioni di euro all'innocente rinchiuso in carcere per 22 anni. Stiamo parlando di Giuseppe Gulotta, a 19 anni, confessò sotto tortura di aver ucciso due carabinieri. Ieri l'indennizio milionario, lo vedete qui nella foto. Andiamo al caso di cronaca della ricercatrice.